Le dicende, io sono venuto sul partito. Quindi in questo certamente ha ragione, come in altre cose, ma la cosa incredibile di Renzi, come di tanti politici italiani, è l'assoluta mancanza di vera autocritica. Di non... l'incapacità di giudicare seriamente, non con qualche battuta, il proprio operato. This was the first reaction, shock! Il modo in cui Renzi ha condotto l'iniziativa giusta per le riforme istituzionali, il modo in cui si è suicidato su quel terreno così delicato, così importante, così strategico, è incredibile. E quindi dovrebbe ragionare sui suoi fallimenti prima che sui fallimenti altrui. Ma lo sa, lei lo conosce a questa... lo conosce bene, no? E... voglio dire... No, lo conosco bene, l'ho visto qualche volta... Vabbè, ma è difficile per certi personaggi fare mia colpa, mia colpa, mia massima colpa. Anche perché poi non è che si sia circondati... Senza giudizio critico e senza ricostruzione critica delle proprie vicende, non ci sarà mai in questo Paese nessuna terapia. Né per Renzi, né per il Partito Democratico, né per il nostro sistema e nel suo complesso. Senta Giannini...